Dai, dai. No, no, se ti dico meravigliosa che sei stata meravigliosa. Ma io lo sapevo. Ma io, cioè, ma io ti conosco calanto. Io ho anche letto di te. Perché tu sei stato capace di sottoporre questa cosa, questa cosa, anche nella conferenza stampa di Sanremo. Tu sei male. In pace, no, ma in pace. In pace, ma tu sei quello che aizza. No, ma sicuro. Allora, cosa vuoi sapere da me? No, no, dimmi, che... Cosa vuoi che ti dica? Fammi una domanda. Sì, hai ragione. Perché hai detto quella frase? C'era una battuta, era... Allora... Era improvvisata, diciamo. Assolutamente, assolutamente improvvisata. Assolutamente autoriferita. Io mi riferivo esclusivamente alla mia scadente performance. È vero che ho usato una frase... Non a caso. A Michelle Cara, ma assolutamente, lungi da me, voler fare una... Quella che è stata considerata attacco, frecciata, battuta... Per carità, mi rendo conto che poteva essere fraintendibile, ma io volevo assolutamente fare una battuta sulla mia scadente performance. Come dire, cara Michelle, tu che hai apprezzato molti momenti di questo festival, stavolta non l'hai detto, perché io sono stata scadente, questo era il sottotesto. Però è come se certe occasioni venissero colte per votare il sacco dagli altri, no? Secondo me, la signora Hunziker è dotata di molta ironia, molta più di quella che hanno detto che io ho fatto una frecciatina a lei. E... Hai sentito lei che ha detto? Ha detto ognuno la sua ironia, era una battuta simpatica. Bisogna vedere se l'ha detto lei o se l'avete scritto voi. No, no, io c'ero e l'ha detto. Cos'è che ha detto? Sentiamo. Ha detto ognuno, ha detto, era una battuta simpatica, io ho chiesto simpatica. Vedi? Lo vedi? Io ho chiesto simpatica, ha detto se ognuno la sua ironia. Ma ha ragione, ha ragione. Guarda che non mi fai arrivare a dire che non mi è piaciuta, perché a me lei è piaciuta, mi è piaciuto il suo ritmo, che c'erano quei due salmoni lì, parliamo di Baglioni e Favino. Quindi attacchi brava, ci piace. Capito? Loro devono ringraziare la signora Michelle che comunque ha contribuito a dare al festival un grande ritmo. Favino ti ha difeso, hai sentito che ha detto che se avessi avuto qualcosa da ridire l'avresti detto apertamente. Assolutamente. E non avevi nulla da ridire? Ma su cosa? Ma che ne so, allora sto chiedendo. Io da ridire ho soltanto sulla mia prestazione. Grazie. Grazie.